Questi beni possono essere erogati sotto varie forme. Il primo possono essere di buoni carburanti, mentre per chi ha le famiglie hanno delle agevolazioni per quanto riguarda le rette per l'asilo e per i trasporti pubblici e tutto quello che può riguardare il welfare vero e proprio, assistenza alla famiglia sotto varie forme. È un accordo che indubbiamente esce dal consueto, quello tra AISA, impianti e le sigle sindacali, che permette ai dipendenti di scegliere se monetizzare il premio di risultato o impiegarlo direttamente per coprire una serie di spese legate a sanità, previdenza integrativa, istruzione e sensibili anche nei confronti dei familiari. In una parola, il welfare. Tutto quello che è welfare per AISA consente dei risparmi concreti e quest'anno ci ha consentito di incrementare quello che è il premio del 23%, quindi è una cosa molto importante. Anche per il lavoratore, il dipendente, questo premio ottenuto sotto forma di welfare non gli va a fare cumulo con gli altri redditi, quindi sostanzialmente tutto questo ci permette di avere come azienda dei risparmi e di dare un premio molto più grande a quello che è il nostro dipendente. È il secondo anno consecutivo che questo accordo consente ai dipendenti di AISA di avere un vero e proprio risparmio in termini ad esempio di assistenza agli anziani o rette scolastiche. Una serie di valori e prerogative che vanno incontro a quella che è una risposta dell'azienda verso tutti i lavoratori, ma la cosa più importante è ricordarsi che progetti di questo tipo vanno incontro e danno una risposta non solo all'azienda in sé e i suoi lavoratori, ma anche all'welfare in senso generale. Nel senso se nelle aziende si riesce a fare progetti di questo tipo dove comunque l'welfare va a sopperire o comunque aiutare la stessa welfare nazionale, se si vuol dire, si va a vedere cosa succede con i vari accordi anche a livello nazionale che ci sono sulla sanità integrativa o sui sistemi pensionistici integrativi. C'è un progetto a tutto campo che serve per dare una risposta non solo all'interno dell'azienda ma su tutto il territorio anche a livello nazionale.